C'è soprattutto la tua firma sull'impresa del Venezia, non è piageria, hai fatto un grandissimo lavoro. Sì, ti ringrazio Massimo, è stato un percorso di 20 mesi, perché l'anno scorso quando sono arrivato sia tutta l'ambiente che tutta la squadra navigavano, eravamo penultimi in classifica, quindi abbiamo dato una sterzata nel mercato di gennaio, cercato di ricreare un po' di unione tra tutte le componenti, ambiente, società, squadra, tifosi, allenatore e con un grandissimo lavoro anche da parte del nostro allenatore siamo riusciti a raggiungere i playoff l'anno scorso, anche se è da ottavi, quindi è stato, però abbiamo preparato il gruppo per provare a fare qualcosa di eccezionale e ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti tra l'altro con la tua Cremonese e il tuo amico Giovanni Stroppa con cui avevi trionfato due anni fa con le Monza, promozione in Serie A, è stato decisivo ancora una volta Gittkier che contro il Pisa era stato determinante, lo è stato allo stesso modo nella finalissima di qualche giorno. Sì, questo ragazzo è uno che nelle partite importanti c'è sempre stato, credo che quest'anno abbia fatto 13 gol e penso che abbia portato tantissimi punti anche se non è stato sempre titolare perché noi abbiamo anche un altro grandissimo calciatore che è il finlandese Poyan Paolo che ha fatto ben 22 gol, quindi sicuramente questa è una cosa che mi porto dietro anche un po' dalla mentalità di Berlusconi e Gagliani che comunque gli attaccanti ci vogliono. A proposito, tu sei in questo momento secondo me il direttore sportivo più vincente d'Italia, quattro campionati vinti nelle ultime sette stagioni, è vero tre gol Monza ma partendo dal basso dalla D alla A, in D non c'era ancora Berlusconi, non c'era ancora Gagliani, insomma tanta roba. Sì, grazie, grazie, credo che sia con Berlusconi e Gagliani ho aumentato ancora di più questa voglia di vincere, questa mentalità che credo che sia uno stile di vita più che di come interprete qualsiasi cosa perché altrettanto importante secondo me quando non vinci arrivare più in alto possibile, quindi è vero che sono stati vinti quattro campionati però è anche vero che quando non abbiamo vinto siamo arrivati ai playoff, quindi questo abitua le squadre ad avere una mentalità diversa. Se andiamo a fare una valutazione di quello che è fatto anche da calciatore, anche due campionati vinti, una proprio col Monza nel 96-97, allenatore il compianto Gigi Radice, la finalissima contro il Carpi di De Canio e poi nel 2004-2005 ad Ascoli con Marco Giampaolo in panchina. Insomma, due campionati vinti da giocatore, quattro ADS con una vita ancora da fare in questo ruolo, mi pare che le premesse. No, vabbè, bisogna stare nel presente, adesso quando si vince si deve festeggiare il giusto però adesso bisogna pensare che ci aspetta un anno di Serie A dove ci sarà da combattere, da vendere cara alla pelle e quindi è giusto provare a fare questa Serie A e la nostra vittoria sarà sicuramente la salvezza. Parlando di ex Biancazzurri, proprio Zampano, lo avete rivitalizzato a Venezia? Sì, Zampano ha fatto un ottimo campionato, è stato un protagonista, sono stati uno dei giocatori più esperti della nostra rosa perché è una rosa prevalentemente giovane, lo prendevo in giro nei play-off e gli dico hai perso due finali di seguito, ma vuoi perdere anche la terza, quindi la prima cosa che mi ha detto è visto direttore ce l'abbiamo fatta, quindi sono contento per lui perché è un ragazzo che ha delle potenzialità quindi magari anche per lui potrà far vedere che in Serie A ci può stare. Segui sempre con il cuore, no? Le vicende del Pescara perché sei di Pescara, hai giocato con la maglia del Pescara nella stagione non felicissima 2006-2007, tutti però ricordano ancora il gran gol di La Spezia allo Stadio Picco che fu il primo in quella tua esperienza in maglia bianca azzurra, ecco che idea ti sei fatto è un momento un po' particolare? Sì, chiaramente da tifoso mi dispiace vedere il Pescara che non riesce ad essere protagonista questo sicuramente, anche da quello che si vede si percepisce da fuori, si sta facendo il massimo con le risorse che si hanno nel calcio, si sa, ci vogliono gli investimenti economici, Pescara ha sicuramente potenziale l'unica cosa che posso dire, ma questa la tifoseria bianca azzurra l'ha sempre fatto è cercare di trasmettere sempre alla squadra l'unità di intenti e di voglia di farsi vedere perché sono sicuro che solo attraverso i tifosi e i tifosi che veramente amano questa squadra possiamo trovare magari un domani una persona che possa fare degli investimenti importanti per questa piazza Si è parlato anche a gennaio, ma anche precedentemente di un possibile trasferimento di Mesic al Venezia insomma, è storia nota, c'erano delle attenzioni su questo slovacco che è andato all'Eracles Si, si, non lo nascondo, è un giocatore che abbiamo seguito, poi ho avuto la possibilità di prendere i giocatori che mi piacevano di più, ma io ho sempre seguito i giocatori del Pescara uno, a parte che ne sono tifoso, due, perché comunque da questo punto di vista si è lavorato bene perché ci sono dei ragazzi interessanti e a parità di condizioni se posso prendere un giocatore dal Pescara lo prendo, perché no? Vanoli ha scelto di firmare col Torino, per il Torino, adesso? Adesso siamo qua, intanto lo ringraziamo per quel grandissimo lavoro svolto e quella dimostrazione che abbiamo lavorato bene e niente, ne troveremo un altro Te l'aspettavi intanto? Ma me l'aspettavo, forse sì, perché proprio nel rinnovo di quest'estate abbiamo messo una clausola di uscita quindi forse me l'aspettavo, però questo è il calcio, Venezia deve essere un posto dove bisogna venire lavorare sodo e se non c'è più la motivazione, se voglia di andare da un'altra parte è giusto che si vada io credo che la motivazione oggi sia tutto e quindi cercheremo un altro tecnico con grandissima motivazione Sceglierai un outsider, uno che si è messo in evidenza che mi veniva in mente, visto che è abruzzese Vincenzo Vivarini che tra l'altro tu conosci molto bene, al di là di come allena ma anche perché tu lo hai avuto alla sua prima esperienza di allenatore in quel 2006-2007 a Pescara Sì, 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 è un ottimo ricordo, quest'anno ha fatto molto bene, sì, bisogna, come identikit c'è un profilo che ci sta perché oggi, ripeto, Venezia ha la possibilità di mettere in vetrina non solo i giocatori ma anche i allenatori quindi grazie del suggerimento magari la porterò